E benvenute e benvenuti, bentornate e bentornati all'interno del Festival di Sherwood. Siamo sotto appunto al tendone media, libri e produzioni per quella che è l'ultimo momento di dibattito di questa esclusiva edizione del Festival di Sherwood. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori che ci seguono in diretta da Radio Sherwood e iniziamo appunto il dibattito di stasera presentando il libro La guerra non parte da qui assieme all'autore Marco Palma che saluto, benvenuto a Sherwood. Ciao a tutte e tutti, intanto grazie molte per l'invito, ovviamente mi fa un gran bel piacere essere qui oggi a discuterne. Prima di iniziare anche un saluto e un ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno dietro in regia, instancabili, che sono arrivate e arrivate alla fine sane e salvi. Iniziamo appunto parlando di quello che è il tuo primo romanzo e partirei con una domanda personal politica, ok? Tu sei nato a Bolzano ma ti trasferisci fin da bambino a Vicenza dove appunto cresci e fai anche la tua attività politica e di fatto poi il tuo romanzo parla proprio del movimento No Dal Molin che appunto per chi non lo sapesse, ma dubito che non si sappia, prende la scena della città di Vicenza. Ecco, da attivista e da persona che appunto in prima linea poi si è messa a disposizione in quello che è stato questo grande movimento che è riuscito poi ha avuto la grande capacità di riunire tutti i corpi, gli animi e la comunità vicentina diventando poi di fatto un'istanza maggioritaria all'interno, nella tua città. Ecco, quindi come sempre succede nei grandi appunto movimenti maggioritari c'è sempre un prima e un dopo il movimento, no? Io parto anche dalla mia esperienza di giovanissima attivista del comitato No Grandinavi, anche quella è stata una battaglia, è una battaglia che è riuscita appunto piano piano grazie alla tenacia, anche a discreta dose di radicalità e di conflitto, è riuscita a riunire appunto le idee, le voci di tantissimi corpi facendola diventare poi una battaglia cittadina, una battaglia maggioritaria. Ecco, lo stesso appunto credo che sia successo a Venezia con il No Dal Molin e quindi la mia prima domanda è appunto qual è stata il passaggio, qual è la grande eredità che il movimento ha lasciato nella città e com'era Vicenza prima e com'è Vicenza dopo il movimento No Dal Molin. Sì, per parlare della Vicenza dopo credo sia utile parlare della Vicenza prima, che era una Vicenza dove io ero studente, al tempo andavo all'università, quando è iniziata la vicenda del Dal Molin e non era propriamente la città in cui si aveva voglia di vivere e in cui ci sentiva, come dire, a proprio agio nel fare attivismo, non perché non fosse bello fare attivismo ma perché, come dire, si respirava per la maggior parte del tempo comunque un clima che se non era di ostilità era comunque spesso di grande indifferenza. Questo nonostante poi, come dire, Vicenza abbia una storia in cui ogni tanto delle cose succedono e quando succedono lasciano anche traccia. Vicenza è la città dove più di mezzo secolo fa ormai nasce per esempio il movimento per l'obiezione di coscienza, i primi obiettori che allora, come dire, si rifiutavano di andare a fare il servizio di leva quando ancora non c'era la possibilità di rifiutarsi, ce ne sono alcuni, molti sono vicentini. È la città in cui quando scoppiano le guerre in Iraq, in Afghanistan, all'inizio anni 2000, comunque c'è una testimonianza forte di opposizione che magari, come dire, non si esprime tanto nell'attivismo anche se poi è da Vicenza che alcuni vanno a bloccare anche i treni a Grisignano, ma si esprime tanto anche nel simbolo, come dire, nella testimonianza di appendere una bandiera, in quel caso arcobaleno, alle finestre e molti riconoscono nella città di Vicenza quella più colorata d'arcobaleno di quella fase lì. Nonostante ciò però va detto che, insomma, fare attivismo, fare movimento studentesco nel mio caso, ma anche altre forme di attivismo a Vicenza, non era propriamente entusiasmante. E di fatti, prima che, come dire, la questione, l'opposizione alla nuova base statunitense scoppiasse a partire dal giugno 2006, c'era in piedi anche una riflessione sul tema delle servitù militari, ma era, come dire, una cosa molto di nicchia, una cosa molto difficile da portare avanti, seppure ci accorgevamo, andando nei quartieri, che poi, anche se c'era questo grande silenzio, questo grande, come dire, quasi vivere la militarizzazione come un dato urbanistico, però ci accorgevamo che questa cosa non era vissuta poi così tanto serenamente. E il Dalmolin, la vicenda del Dalmolin, cambia totalmente le carte in tavola di quella città e per me, e credo anche per molte e molti altri, fa diventare Vicenza la città che vorresti lasciare, perché vorresti andare magari in città più grandi, dove invece ci sono più spazi sociali, c'è più attivismo, eccetera. Diventa la città in cui non andresti più via, cioè in cui vuoi restare lì giorno dopo giorno, perché vuoi viverti con l'esperienza fino in fondo, e anzi arrivano persone da fuori che vogliono condividere quell'esperienza. Quindi se fino a pochi mesi prima andavi in Val di Susa e guardavi il presidi Val Susini, guardavi quello che era successo nelle manifestazioni Val Susine con, come dire, questa grande invidia, dopo continui ad avere una certa invidia, perché comunque la Val di Susa ti rendi conto che sei cascato in qualche maniera in mezzo a una cosa straordinaria, unica, e che questo sta accadendo nella tua città. Questo è prima il durante e poi tu mi chiedevi il dopo. E questo è un dibattito aperto, io credo, anche tra chi quell'esperienza l'ha fatta, nel senso che ovviamente ci sono vari punti di vista e, come dire, c'è chi vede in maniera più importante il fatto che conclusa quella fase il tema della presenza militare sia di nuovo ritornato sotto il tappeto e oggi non sia un argomento di dibattito cittadino e obiettivamente è vero, è così, ma è altrettanto vero, io credo, questa è la mia opinione personale, che, come per tutti i movimenti che si costituiscono su un obiettivo, in quel caso impedire la la militarizzazione di un posto specifico, sia abbastanza normale che ci sia una grande fase di lotta e poi quando, come dire, quella condizione lì non c'è più, nel nostro caso a Vicenza la base è stata comunque costruita, vengano meno alcune delle condizioni per portare avanti quella cosa lì. Però credo sia altrettanto pensabile, insomma, io lo penso, che l'opinione di tanti e tanti vicentini sulla presenza degli statunitensi a Vicenza in questi quindici anni non sia cambiata. E d'altra parte, però, credo, ha lasciato in eredità da una parte una consapevolezza molto ampia e diffusa, nel senso che poi il movimento ha aggregato io direi migliaia di persone che prima non avevano mai fatto attivismo, che probabilmente non lo avrebbero fatto se non fosse successa quella cosa lì, e, come dire, ha permesso una crescita collettiva. E dall'altra delle realtà in città, che oggi ovviamente Vicenza è un po' tornata a essere in parte quello che era prima, in cui governa di nuovo la destra, la destra peggiore che il Veneto sa esprimere, eppure però ci sono tutta una serie di realtà sociali, tra queste a me piace particolarmente ricordare il Caracol, che, come dire, di quell'esperienza lì portano nello zaino alcuni strumenti, alcune idee, e continuano a usarli, in parte per fare altre cose, in parte, io credo, anche per tenersi pronti, mi piace pensarlo, mi piace crederlo, a riaprire, non appena se ne offra l'occasione, una nuova stagione di mobilitazioni, magari non straordinaria come quella, ma comunque che coinvolga pezzi di città, sul tema della militarizzazione, che poi non è solo legato ovviamente alla militarizzazione, ma parla di democrazia, parla di ambiente, e tante altre cose. Grazie per questa tua prima esaustiva e interessante risposta. Parlando anche appunto di quello tu accennavi prima all'ascito, un po' che il movimento dal Molina ha dato alla città di Vicenza, una cosa che si insomma si sente molto nella lettura del libro e che spicca in particolar modo è questo senso appunto di comunità che si esprime attraverso il movimento no dal Molina. In particolare mi hanno molto colpito queste immagini degli attivisti e le attiviste intorno al fuoco durante il presidio, questa immagine anche dei momenti di socialità che non sono, non diventano diciamo secondari a quelle che è la contestazione della mobilitazione politica ma di fatto diventano dei momenti centrali anche per anche la riproduzione sociale del movimento e per dirla un po' in termini focoltiani quegli elementi di biopolitica che servono ad unire ancora di più i corpi militanti, gli attivisti che fanno parte e che appunto si alimentano a vicenda e danno anche una nuova spinta alle mobilitazioni al movimento in generale forse anche un po' mettendo in secondo piano quelli che sono invece momenti assembleari più prettamente politici vertenziali e quindi appunto la mia domanda è quanto questi elementi sono stati determinanti all'interno del movimento nella costruzione delle mobilitazioni io direi che sono stati come dire l'elemento centrale di questo percorso ed è anche faccio una parentesi sul libro quello che io ho voluto tentare di raccontare con queste pagine ho scelto di scrivere un romanzo perché vorrei poi chi lo legge dirà se è così o no vorrei restituire non solo e non tanto la dimensione come dire storica o politica di questa mobilitazione ma anche soprattutto l'esperienza che le persone hanno vissuto e il tipo di relazioni che si sono costruite e questo è un qualcosa che credo chiunque abbia fatto quell'esperienza ve lo racconterebbe come ciò che ha reso unica e incredibile quella mobilitazione lì perché io ho avuto io sono stato molto fortunato perché ho avuto la fortuna di fare in quegli anni con l'esperienza da studente quindi ho potuto tranquillamente dire ok per un po' i libri gli esami magari ne faccio un po' meno vanno in secondo piano e mi prendo tutto il tempo che voglio per stare dentro a questo percorso ma anche chi invece lavorava già a quel tempo come dire finiva il proprio turno di lavoro e tendenzialmente verso le 6 6 e mezza quando poteva veniva veniva in presidio veniva sotto i tendoni stava intorno al fuoco a discutere la sera qualcuno portava la chitarra e si suonava ma si discuteva era un qualcosa di eccezionale e pazzesco insomma i primi giorni quando montammo noi montammo i tendoni il tendone perché inizialmente era uno con l'idea di dire vabbè stiamo qui qualche giorno perché il governo Prodi doveva decidere in quanto l'ambasciatore statunitense aveva dato un ultimatum aveva detto entro nove giorni ci dovete rispondere Prodi non ha avuto neanche il coraggio di aspettare nove giorni al quinto ha detto sì 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 la facciamo fare non preoccupatevi e noi proprio la notte prima eravamo andati a iniziare a montare questo tendone dicendo abbiamo 4-5 giorni da tenere botta per come dire fare pressione sul governo mettiamoci in questo campo col tendone poi ci siamo stati anni e le prime sere la cosa pazzesca il terzo o quarto giorno siamo dovuti andare alla ricerca a farci prestare un secondo tendone perché tutto intorno dal quartiere dalla città arrivavano persone che portavano i panettoni avanzati dal Natale era gennaio portavano pentole di zuppa e quindi abbiamo dovuto montare un tendone di fianco al primo solo per metterci le cose da mangiare che arrivavano abbiamo mangiato panettoni credo fino a luglio più o meno talmente tanti ne abbiamo raccolti e questo era il senso di comunità che si creava cioè tutti che si sentivano nella possibilità di fare qualcosa di molto concreto cioè di anche portare un panettone venire ad aggiustare giorno dopo giorno il pavimento che all'inizio era fatto di bancali buttati sul fango su cui si camminava in qualche maniera e giorno dopo giorno diventò un pavimento come quello che oggi noi vediamo qua bellissimo curato dalle persone eccetera e questo è un altro elemento io credo che è importante perché questa è come dire la parte socializzante ma poi c'è la parte politica e noi facevamo assemblea lo facevamo ogni martedì e l'assemblea si chiamava assemblea permanente e quel permanente all'inizio l'abbiamo messo un po' lì per dire vabbè noi stiamo qua finché non vinciamo questa battaglia e quindi è permanente però poi quel permanente nella pratica è diventata una cosa io direi più forte più importante perché poi tu giorno gioppogiorno vedevi le persone le vedevi al bar le vedevi al presidio le vedevi andando al volantinaggio facendo il gazebo e discutevi e parlavi delle prossime iniziative e ti confrontavi e quindi l'assemblea era permanente perché era venti ore diciamo al giorno lasciamocene quattro per dormire per sette giorni a settimana e quando arrivava il martedì sera tendenzialmente tutte e tutti sapevamo già cosa ne pensavano gli altri di quell'argomento quali potevano essere i punti di incontro su cui ritrovarci e condividere una cosa e quindi l'assemblea diventava il momento e questa era forse la rendeva anche molto bella molto identitaria perché la rendeva il posto in cui essendo tutte e tutti già consapevoli di qual era come dire il contesto entro cui ci si poteva stare insieme e trovavamo il modo si trovava sempre il modo per far sì che nessuno si sentisse escluso dalle decisioni che prendevamo e questo come dire l'elemento socializzante poi ha dato una mano alla dimensione politica una forte mano direi alla dimensione politica ecco un altro un altro grande merito che ha avuto il movimento Notal Molin è stato quello di unire le lotte pacifiste quindi antimilitarizzazione e le lotte ambientaliste e appunto la domanda che ti faccio adesso è divisa in due parti allora la prima è in che modo il movimento è riuscito a intersecare le due le due istanze e appunto partendo anche dal fatto che il movimento Notal Molin nasce da una contraddizione ambientale per cui appunto sotto il Notal Molin vengono piantati migliaia di pali che di fatto vanno a danneggiare in maniera irreversibile la falda acquifera vicentina vediamo come appunto è una lotta che nasce da una contraddizione ambientale che in quegli anni si unisce a tutta quella schiera appunto di movimenti ambientalisti a difesa del territorio penso per esempio appunto alla valle quindi al movimento Notav e come appunto si inseriva il movimento Notal Molin e in relazione anche a quella che è la contraddizione ambientale che viviamo noi 15 anni dopo che è quella della crisi pandemica del covid-19 dei salti di specie dei 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 disastri ambientali che ci sono in Germania in generale in tutte le parti del mondo e come vedi appunto la relazione tra le lotte ecologiste di quegli anni lì e le lotte ecologiste che si danno oggi le lotte ambientaliste che si danno oggi in questo contesto pensando per esempio ai giovanissimi e alle giovanissime di Fridays for Future ma anche a spazi come Rise Up for Climate Justice la prendo un po' larga dicendo che mi piace pensare che ci sia un filo come dire che lega quella stagione di lotte a quella contemporanea attuale stagione di lotte che tra l'altro non era una questione come dire non è che c'era Vicenza il presidio dal Molin la lotta contro la base e e basta è stato quello un periodo in quegli anni in cui in tutta Italia a fianco magari a mobilitazioni più conosciute come sono state quella Vicentina ma anche quella Valsusina sono nati decine e decine di comitati nel territorio che si sono caratterizzati su appunto questi temi di difesa del territorio in quel caso lotte sempre molto locali che però erano già capaci di come dire coniugare una dimensione molto territoriale a una riflessione più ampia il movimento a Noa Dal Molin in realtà non nasce immediatamente io credo almeno questa è la mia lettura come mobilitazione ambientalista nel senso che io penso che quantomeno nei primi mesi nelle prime settimane ci siano due gambe che fanno in qualche maniera partire la mobilitazione una è quella fatta dalle realtà di attiviste attivisti che come dire già avevano una riflessione sul tema della guerra su cosa significa avere delle basi militari statunitensi nella propria città eccetera eccetera e ovviamente capiscono che la questione di una nuova base militare ex novo è una questione problematica e l'altra gamba è formata da una serie di comitati cittadini che in parte c'erano attivi su altre questioni e in parte si creano e la cui però iniziale preoccupazione è soprattutto quella di come direi vedersi una opera faraonica a poche decine di metri a poche centinaia di metri dalle proprie abitazioni però questa partenza permette anche con la necessità di costruire un'opposizione che sia argomentata ed efficace quindi con la ricerca di persone che sappiano anche dare chiavi di lettura e quindi tecnici che sappiano leggere i progetti persone che sappiano parlare di quel territorio permette in poche settimane perché stiamo parlando di una crescita che inizia a giugno 2006 e che già è molto avanzata a dicembre in termini di capacità di costruire una riflessione che metta insieme più pezzi e permette di far crescere una consapevolezza e una conoscenza dei temi anche ambientali e legati alla gestione delle risorse in quel caso l'acqua soprattutto e il territorio a centinaia di persone che nel volersi opporre alla base iniziano a informarsi iniziano a riflettere insieme e quindi da qui poi si passa anche alla riflessione sul tema allora si parlava molto oggi si chiama ne parliamo in termini di crisi climatica in quegli anni si parlava molto di beni comuni ma poi molte cose sono come dire sono vicine tra questi ragionamenti e una cosa credo che secondo me è molto interessante che io come dire credo sia stato un pezzo molto bello e molto importante della riflessione che è nata a Vicenza sul Dal Molin è stata poi il ragionamento la costruzione di quello che chiamammo l'altro comune di Vicenza e l'altro comune di Vicenza era sia come dire ovviamente la rappresentazione di un conflitto di un'opposizione rispetto all'amministrazione locale di destra che quella base invece la sosteneva e la facilitava ma era anche l'inizio di un ragionamento sul fatto che come dire i territori i beni comuni ciò che abbiamo acqua suolo territorio eccetera possono avere una gestione diversa da quella che abbiamo conosciuto e che spesso poi porta a una gestione finalizzata solo al profitto e alla devastazione ambientale e qui in Veneto tra l'altro di esperienza in questo senso ne abbiamo tante ecco questa riflessione secondo me dell'altro comune di Vicenza è una riflessione che ancora magari non insegna nulla perché ovviamente ogni movimento e ogni periodo costruisce i propri percorsi però può dare delle chiavi di lettura che io credo possano ancora essere interessanti oggi perché credo che continuare a legare il tema dell'emergenza climatica e quindi come noi affrontiamo il riscaldamento globale al tema di come noi costruiamo forme diverse di autogoverno dei nostri territori dei luoghi che abitiamo delle nostre comunità siano due temi che vanno tenuti vicinissimi e strettissimi ti ringrazio tantissimo per appunto lo spazio che ci hai ci hai dedicato io avrei anche terminato qua le domande a Marco Palma e invito chi siede al pubblico a fare insomma il microfono è aperto se volete se avete qualche domanda da porre a Marco altrimenti ci salutiamo qua bene dal pubblico mi pare che non ci siano domande ah no guarda ne abbiamo una prego prego no più che altro volevo chiedere all'autore del libro siccome anch'io ho vissuto quegli anni ho seguito la vicenda non so in questo libro siccome non l'ho ancora letto non so oppure se lo vuoi spiegare qui brevemente il discorso del referendum che si era creato cioè dove si chiedeva alla popolazione di Vicenza di dire no cioè di dire sì per il no all'allargamento della base e viceversa e se volevi anche parlare accennare così della Cinzia Bottene ti ricordi? e così insomma di tutti quei gruppi che si erano formati in quegli anni lì perché mi ricordo sono tanti anni che è andata avanti questa esperienza del no dal Molin ok grazie beh grazie alla domanda intanto tante cose insieme e partirei dal referendum per poi arrivare al libro su Cinzia francamente non saprei cosa dire nel senso che è stata una delle tante attiviste del presidio ovviamente è stata una figura di di grande visibilità perché spesso parlava in pubblico e ha partecipato a a trasmissioni televisive però credo credo che la bellezza di quel movimento sia stata anche che poi al di là di dei ruoli che ognuno poteva ricoprire in un determinato momento poi era un percorso in cui tutte e tutti avevano il proprio spazio di chiamiamolo protagonismo no cioè di poter fare e dire delle cose sul referendum credo il referendum non c'è nel libro perché nel libro io racconto il primo anno dell'esperienza del presidio il referendum è stato un momento di partecipazione eccezionale della città il referendum è stata una delle prime richieste che il movimento fece quando venne fuori il progetto e che a più volte rilanciò anche perché come dire era evidente e lo dicevano non solo le piazze ma addirittura i sondaggi che la maggioranza contraria alla base era importante e direi quasi quasi schiacciante insomma soprattutto per una città come Vicenza dove non eravamo abituati a questi numeri di consenso rispetto alle istanze dei movimenti fu però un momento particolare e unico perché fu autogestito e fu autogestito in pochi giorni perché il referendum doveva essere un qualcosa di istituzionale promosso dal comune di Vicenza dopo la vittoria del centrosinistra alle elezioni del 2008 il centrosinistra vinse le elezioni proprio perché come dire si fece portatore di questa cosa di promuovere un referendum consultivo in città sulla base successe che tre giorni prima del referendum su un ricorso del centrodestra il consiglio di stato dichiarò illegittima quella consultazione di fatto vietandola e impedendola e però la risposta della città fu pazzesca perché la sera stessa in piazza dei signori c'erano più di diecimila persone a manifestare per il referendum che spinsero l'allora sindaco a capire che quel referendum non poteva essere semplicemente cancellato ma doveva essere fatto in un altro modo e fu fatto con centinaia di volontari che in tre giorni allestirono decine di gazebo davanti a quelli che dovevano essere i seggi ufficiali e dove in dodici ore votarono poi la domenica più di ventiquattromila persone votarono in larga maggioranza sì come accennavi prima tu perché il quesito non chiedeva se queste persone volevano la base militare a Vicenza ma se non ricordo male chiedevano se volevano che quell'area lì fosse trasformata in un parco pubblico cittadino il 90% di quei votanti votò sì ovviamente il valore che aveva era molto politico ma molto poco dal punto di vista poi formale per quanto riguarda il libro ti ringrazio della domanda il libro ho deciso di scriverlo sotto forma di romanzo e non magari un saggio o una cronistoria perché l'ambizione appunto era quella di raccontare non solo i fatti ma soprattutto l'esperienza racconta un anno il primo quindi da giugno 2006 a giugno 2007 della mobilitazione e gran parte non tutti ma direi il 95% degli episodi che racconta sono episodi che sono davvero avvenuti durante quell'anno e in questo ordine cronologico soltanto un paio di episodi sono avvenuti successivamente ma mi sembravano particolarmente belli da raccontare quindi nel libro sono anticipati come date e è costruito intorno ad alcuni personaggi una parte di questi personaggi rappresentano quella che era la controparte del movimento e quindi le forze dell'ordine l'esercito statunitense l'amministrazione comunale nella figura di un assessore altri personaggi invece provano a raccontare la pluralità di quel movimento che è stato un movimento che come dire ha saputo mettere insieme dagli studenti ai pensionati da persone con un retroterra anche culturale sociale politico molto differente che però hanno saputo mettersi in gioco e provare a costruire insieme delle cose e per alcuni anni ci sono riusciti in maniera straordinaria l'idea del libro è provare a raccontare questo quindi questa parte di quell'esperienza perché probabilmente penso è quello che può dare credo alcuni spunti a tutte e tutti noi grazie Marco e grazie veramente per appunto per per le tue per le tue risposte e non ci resta che lasciarci se non ci sono altre domande dal dal pubblico e grazie grazie Marco per essere stato con noi grazie a Pino Pablo Annette e Clementine che fanno un lavoro ottimo grazie a tutti e tutti quelli che ci hanno raggiunto sotto allo stand e grazie a chi ci ha ascoltato da Radio Sharewood qui dalla foresta di Sharewood l'ultimo approfondimento culturale l'abbiamo l'abbiamo portato a casa e quindi insomma ci vediamo il prossimo anno ci vediamo anche dopo perché ci sarà il dopo ci saranno il il concerto e ci sarà anche il dopo festival qui in diretta ciao a tutte e tutti ciao 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 ciao